scusate raga ma l'ultima volta ho sudato in un modo solo per fare una classificata che caricarà che caricarai che caricarai sul mio canale di rainbow six mettiamo sta skin sto merino va bene ok siamo pronti con il q molti mi state dicendo mi state consigliando di prendere valkyrie ma raga ma ho praticamente fatto un praticamente ragazzi visto su youtube molti mi stanno consigliando frost però ragazzi mi state consigliando valkyrie sotto nei commenti ragazzi non veramente non so chi prendere perché su youtube di solito ci sono quei pro della madonna che ti consigliano veramente cosa prenderle per l'appunto bisogna di solito dare retta ai pro della madonna però raga non so se seguire voi o seguire appunto youtube raga mi sono fatto qualche partita non ne ho vinta assolutamente una neanche una rega neanche una e poi ho fatto un episodio di call of duty black ops 3 che sto assolutamente giocando e riportando assolutamente sul canale e io trovo l'argettivo e raga l'obiettivo lo troviamo noi bellino il cosa dello jäger bellissimo bellissimo allora l'ultima persona non so chi sia è ma c'è l'anima dei mortacci di sasha l'anima dei mortacci tua ma dove cazzo vai l'obiettivo lo vedi anche vabbè insomma vi stavo dicendo ho fatto qualche partita zero kill proprio qualcosa di osceno osceno veramente bella sta skin raga costa poco raga 2500 punti fa ma e bene ora sono il nostro punto spawn bravi mongoloidi bravi mongoloidi raga ma questo telecamera non mi vede assolutamente controllavo controllavo andiamo di sopra raga un wall bang a casa mica mi farebbe schifo ah ha buttato fuori ma sono proprio un down di merda raga mi esce sicuro non mi esce qui ci sta tre cosi dello jäger ma sono un po' rischiata qui eh in caso me ne scordassi raga lo favolgo almeno sapevo una kill se è possibile me la fate fare non ci creda è spawn kill ma porco disco no oggi non riesco a fare una kill porco disco sarà anche 5 contro 3 si vabbè 2 contro 3 guarda sto figlio della mignotta ha fatto una double con nitrocell e vabbè porco dio raga scusate per la bestemmia ma non ce la fa due partite di fila non riesco né a vincerle né a come dire spara fra i due cosi fra i due tubi mongoloide ma questo è un deficiente questo è un deficiente da un di merda c'ho la telecamera sopra c'ho la telecamera sopra vabbè raga tanto oggi ho bella vista tanto non è che si possa sempre vincere ma almeno una kill cazzo fammela fare c'è nessun senso qua wow ma wow t'ho fatto parecchio e' un passo verso di lo schifo ma perchè non avevo la claim orrana dai romo scopertissima raga dai Una kill io la devo fare Cioè sono contento Cioè Sono contento ma Vai mongoloide Vai su di show Guardala guardala che schifo Guardali che schifo Guardali che schifo Kill quella per favore Ha sentito una barricata toglierti Bravo Forse ce la può fare raga eh Si è sciolto a cavera e fatto Abbiamo vinto non ci credo Non ci posso credere Guardate porca puttana Abbiamo vinto Bravo boss Grande Continua così Ho visto ragazzi che sta salendo Il mio canale Sta salendo un parecchio raga 25 iscritti bravi raga E continuate così che porterò Altri contenuti di Rainbow Seeds Mi raccomando Scusate ancora per la bestemmia Ma purtroppo non ce l'ho fatta Ve l'ho Voi ho tagliato quei 3 secondi 4 secondi che l'ho detta Perché veramente non ce la potevo più fare E stavolta la prendo io Caveira Ok A parte Frost e Valkyrie Non so se Cioè Io li prenderò anche Per fare gli alfa pack opening In caso trovassi qualcosa di loro Cosa che ho già trovato Nell'alfa pack opening Di 25 pacchetti Ho trovato il livello Ovvero la mimetica di Valkyrie E una cosa raga Una cosa E Oggi Io guarda Non so se ci sapeva Culo prima Raga Non so se ci sapeva Culo Vado prima che mi spari In noganga Allora Andiamo a far spawn kill Anche se è un po' tardi No scherzo raga Io non li faccio Ste cose Anche se porca puttana Sarai indeciso Mamma mia Se mi tenta Però no dai Già oggi Una kill la vorrei fare Se è possibile Quindi Se oggi voglio fare una kill Per favore Grazie Dobbiamo Dobbiamo Raggiungere I nostri nemici Passo passo Quella finestra Madonna santa Oddio raga Scusate per l'intrusione Ma Cazzo Ma come ho fatto No veramente Ma che è oggi Ma muore sta gente di merda Raga vi giuro Mi sto mettendo a piangere Cos'è porco diesel Ma segnala subito Guarda questa ascia Puttana di merda Che non crepa Io ho sparato anche io Guarda ma guarda Puttana di merda Vuoi crepare Che cazzo Brava Mi ha sparato E io veramente Impossibile Fa 23 di danno Fa potente E son dietro È giusto Perché non di niente Sta lì A sinistra Eh Lì dentro In quella stanza Per forza Ma però c'è anche blitz Sì bella C4 Z Che merda Eh ma c'è Buck Deve uccidere Buck Per togliere chi proprio Bravo Come ho fatto Ah perché era ferito Vabbè raga Oggi si vince proprio a culo Eh Bella raga Siamo ritornati su Rainbow di nuovo Spero di non essere interrotto di nuovo raga Giornata Serata da dimenticare Prima ho fatto un episodio su COD Black Ops 3 Ve l'ho detto anche prima Ho fatto schifo Ho fatto schifo Ora mi sono anche telefono Quello De Il mio telefono Il mio cellulare Suona proprio Probabilmente In un pezzo Sentirete anche un po' Un po' la Come dire La La foneria appunto Del telefono Ma dai Spero non vi dia troppo fastidio Allora stiamo giocando anche Con una femmina Credo forse Forse Boh Si chiama Emma Che cazzo ne so io Magari può essere anche un maschio Boh Un maschio Boh Prima L'intrusione di mia madre Che ero per cazzo Che mi dava asciugare il capogolfono Mortace De peppo E poi Sono il telefono Dio Dio diesel E poi raga oggi si sta vincendo A bugio di culo Veramente Cioè io Tutte le partite Che si è fatto Agli sgoccioli Cioè Credo che si siano Vi da culo Perché non è possibile Cioè io le davo perse Sia quella con Con twitch Che con Cos Poi si inizia sempre Con 5 contro 4 5 contro 3 Qua Qua Sempre 5 3 5 vs 5 vs 3 Ok Ah eccola lì Perfetto Ehm Ibanan attimo Allora Cavera e doc Non ci sono Buoni Operatori Tra l'altro Utilissimi Cioè Per loro Intendo Spero non me venga Uno Perché porco Due Vai Sali Ok Sfonda 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 Scusate ancora Raga Per le intrusioni Ma Che volete Va Purtroppo è così Ehi Non c'è nessuno Perfetto Dai Una kill Fammela Fare Ok Eccolo Ecco Raga Il blitz Risolve la situazione Con una kill Finalmente Quindi Raga Questo video Di tortura Perché l'ho considerato Di un video Di tortura E non ci credo Neanche che Si è vinto Partita Guarda Così Non l'ho mai Viste Mai Viste Quindi Ragazzi Se questo video Vi è piaciuto Lasciate un bel like Iscrivetevi al canale Per favore Per essere Per avermi Per questi Mi hanno introdotto Mille volte Livello 103 Cioè Guarda per quanto Non so Livello 103 Ma Cioè Una barra così bianca Non mi dai Il pacchetto alfa Eh raga Ve l'ho detto È una serrata Da dimenticare E già tanto Sono fatto una vittoria Completa Tra l'altro È una kill Alla fine Ho fatta Quindi ragazzi Se questo video Vi è piaciuto Lasciate quella Che iscrivetevi al canale E porco 2 Non so Livello 103 Ma guarda Let's go Alla fine Ciao Alla fine